Eccoci qui ormai in prossimità dell'inizio del campionato d'eccellenza con il nuovo tecnico del Termoli Calcio 1920 Gianluca Scanzano che appunto è qui ad allenare questi ragazzi che stanno piano piano formandosi in una squadra. Allora, mister, siamo ormai a pochi giorni dall'inizio di questa stagione che dovrebbe essere forse quella della rinascita del calcio a Termoli. Lei pensa che ci possiamo fare una speranza su questo campo? Allora, io credo di sì, insomma, iniziamo già ad immaginarci che da quest'anno possa cambiare qualcosa perché ci stiamo mettendo veramente tutta, sia noi staff che con i ragazzi che pian piano stanno arrivando e ci stanno venendo a dare una mano. La società vedo che è molto attiva, quindi quest'anno vuole scavare dalle radici perché dopo un po' di anni di purgatorio perché questa è una piazza che merita tanto, veramente merita tanto, non merita quello che fino adesso ha avuto. Lei poi questa piazza la conosce perché ci ha pure giocato? Bravissimo, quindi so che tipo di piazza è, so che è molto esigente, quindi è comunque una città dove è conosciutissima in Italia, quindi a livello calcistico è una piazza veramente importante. Mister, qual è stata la molla che l'ha convinta ad accettare questo incarico, pur sapendo che sarebbe stato un incarico con una pressione addosso abbastanza notevole? Vabbè, come fai a non accettare Termoli, a prescindere di come vanno le cose. Termoli sappiamo che è comunque una grandissima piazza, dove comunque se ci lavori e ci lavori bene, pian piano, pian piano i frutti escono e bene o male possiamo ottenere dei risultati positivi. Io spero che comunque la società ci sta veramente impegnando al massimo. So che ci sono nuovi soci, soci importanti, che penso che conoscete. A livello dirigenziale abbiamo qui delle pietre miliari. Già vedendo insomma Nardecchia, Pino De Palo, che comunque è gente che ha fatto i professionisti, c'è il signor Montano che comunque so che è una persona molto illustra qui a Termoli, quindi comunque vogliono fare qualcosa di importante. Non dico di creare quell'entusiasmo che si creava sempre nei tempi belli, però iniziando già a formare qualcosa per portarla comunque in alto. Le case si costruiscono sempre dalle fondamente, lei mi insegna. Quindi stiamo scavando da sotto, diciamo così. Perfetto. Veramente dalle fondamente. Comunque abbiamo un gruppo di ragazzi, anche se giovani ma validi, abbiamo qualche over importante che comunque già ci stava l'anno scorso, tipo Ciro dell'Aquila. Infatti loro, i dirigenti parlavano di un amalgama tra giovani e un mix. Sì, infatti comunque sia so che arriveranno ancora qualche altro over che ci verrà a dare una mano, speriamo a più presto. Noi ce la metteremo tutta. Io l'unica cosa che voglio dire alla piazza, è vero, è stato brutto, per esempio domenica scorsa siamo andati a vincere a Guardiafira, non c'è stato un commento in positivo, ma lo accettiamo perché sappiamo che dopo tanti anni di, diciamo, tra virgolette, campionati un po' così, la piazza è comunque arrabbiata. Diciamo forse che ci vuole qualcosa di più consistente per poterli smuovere un po' nella coscienza. Io spero di riuscire, il mio obiettivo sarà quello, di portare entusiasmo. Io voglio che ci venite a seguire il più numerosi possibile. Lo so, magari, questo muovi, va qua, chissà che cosa vuole dalla piazza. Io voglio che ci state il più vicino possibile, perché comunque la società sta facendo il massimo per portare la piazza dove merita. Se non sarà quest'anno, sarà tra qualche anno, ma comunque la piazza ritornerà ad essere il termine di una volta. Io spero che in questo anno ci venire a dare una mano, anche sotto il profilo tifosi o la gente che ci verrà a vedere a campo. Noi ce la metteremo tutta, io in primis, con i ragazzi e con tutta la dirigenza. Probabilmente il miglior antitolo per questa cosa è, magari, ecco, già cominciando a vincere, cominciando a fare qualcosa di positivo, poi la gente mano mano, sai, e si incuriosisce più. Bravissimo, noi ce la metteremo tutta, purtroppo ogni partita è una storia assieme. Magari c'è domenica, poi ogni partita, se si vince, siamo contenti tutti. Se si perde, sai, poi è qui, purtroppo è così. Quando si perde, si punta il dito. E non è giusto, perché comunque bisogna vedere i sacrifici che si fa a fare in un campo di calcio. Io spero che veramente questa piazza ci dia una grossa mano, ma non sotto l'aspetto... perché vedo molte critiche. Diciamo che è rimasta un po' scottata da queste ultime esperienze, allora, sai, prima di... Erano abituati, ci hanno fatto la bocca buona, ci hanno fatto. Sì, sì, ma io li giustifico pure. Io sono una persona molto alla mano, sono una persona che... sono andato tra la strada, quindi capisco che cos'è il calcio vero. L'unica cosa che voglio dire a Termoli, calcio, e tutti i tifosi di Termoli, e tutta la cittadina, di starci vicino il più possibile, perché vi posso dire che le cose stanno cambiando. Magari all'inizio andremo comunque ancora a soffrire, però ne usciremo alla grande. Io ne sono pienamente convinto, ho accettato Termoli, perché Termoli è una piazza importantissima. Anche se in queste condizioni, anche se magari pensate male, però io sono convinto che a Termoli emergerà il più presto possibile. Diciamo che il lavoro paga sempre, se il lavoro viene fatto con sincerità e con passione, pagala comunque e pagherà. Magari sempre. Bravissimo, noi sul lavoro, questo e questo... Già questo è un buon punto di partenza. Immaginare, abbiamo un preparatore atletico di primo ordine, insomma è stato con la vastese, è stato con il... adesso mi spugge il portiere. Però abbiamo visto che la dirigenza e tutto quanto... c'è ogni pedino al posto giusto. Abbiamo tutto, tutto quello che comunque c'è bisogno in una società, in una squadra di calcio. Io ho tutto a disposizione e questo grazie alla società che mi permette di lavorare così. Spero che i risultati ci daranno ragione. Manca poco. Piano piano arriveranno anche quelli. Già subito la domenica dare già una gioia a tutti voi. C'è una matricola che arriva da Alfedena, diciamo una squadra abruzzese che... Non la io sinceramente non la conosco. È sconosciuta anche a noi dalla piazza. Ho preso delle informazioni, però comunque va sempre prese con le pinze. Io ci metteremo sempre il massimo e spero che domenica vada nei migliori modi possibili. Un'ultimissima cosa e poi la lascio andare ai ragazzi che la stanno aspettando per l'allenamento. Volevo dire, come formazione della squadra, cosa gli manca ancora? Adesso andiamo sul pratico. Quindi giustamente mi manca ancora qualcosa per poter magari lavorare nel miglior modo possibile. Però attualmente devo vedere le cose più semplici possibili da mettere in campo. Quindi farò il massimo per questi ragazzi per esprimersi al massimo delle loro possibilità. Questo è quello che attualmente Termoli si è chiedendo. All'inizio non si può chiedere certamente di più. Mister, io le auguro un buon lavoro che gli arridano anche i successi, i risultati e con i risultati poi ci possa rivedere finalmente uno stadio pieno che davvero non è bello vederlo vuoto. L'ho anche messo nella storia perché comunque nella mia storia... Certo, lei poi l'ha visto, ha avuto modo di vederlo anche quando era pieno. Sì, è una piazza veramente bellissima che merita tanto. Io spero che ci date una grossa mano sotto questo profilo qua. Poi dopo i risultati arriveranno. Piano piano la società ci sta mettendo tutto l'impegno possibile. Statici vicino, solo questo vi dico. E noi cercheremo di accontentarla in questo. La ringrazio. Bocca al lupo e buon lavoro. Bevi il lupo.